Uè Robin scusa ma sono qui da poco, sono parte del gruppo degli ultimi arrivati mi dicono tutti che devo avere un blog Blog Bisogna chiarirla bene questa cosa del blog una volta per tutte di modo che le persone non si confondano Il blog è un tipo di contenuto È un tipo di contenuto per chi vuole avere un giornale di bordo personale dove raccontare la sua storia, quello che gli succede, quello che succede nel suo negozio nella sua organizzazione, alla sua squadra sportiva, quello che sia È un giornale di bordo così è nato Nasce dalle parole weblog Diario del web Weblog blog Poi tu puoi prendere un servizio, un software per fare i blog e farci quello che vuoi Le giostre, il Luna Park, fare le news, scrivere articoli Però il blog nasce con questo scopo Quindi se tu sei uno sportivo, un negoziante, un imprenditore, un consulente, una specialista di qualcosa E vuoi raccontare giorno dopo giorno quello che succede nella tua vita, nelle tue esperienze professionali, nelle scoperte, nelle ricerche che fai Il blog è il formato, la tipologia di contenuto ideale per farlo Il blog non è altro che un diario personale firmato da una voce unica caratteristica che ci mette il nome, cognome e la faccia E che racconta in maniera sistematica ciò che succede in un certo contesto Uè Robi ma se io non sono in una di queste casistiche qua allora a me il blog non serve, che ci faccio? Infatti se tu non rientri in una di queste casistiche non hai bisogno di un blog, forse hai bisogno di un sito Ma quello che ti suggerirei io di considerare è che più di avere un sito che richiede un sacchissimo di tempo per essere progettato, pianificato, costruito e realizzato Considera da subito la cosa che è più importante di tutte, cioè di andare da adesso, da ora, attraverso le piattaforme gratuite a coltivare un tuo seguito di fan Dando da subito dimostrazione delle tue competenze Non c'è bisogno di avere un sito, una villa, un gran parco per fare delle feste quando ancora non ci conosce nessuno in questa città Facciamoci prima conoscere e apprezzare e poi quando abbiamo un seguito di persone veramente interessate a ciò che abbiamo da dire, costruiamo il parco e la villa Quindi ti do un esempio concreto, prendi suonarelabatteria.it di Corrado Bertonazzi, un mio studente nel Pop Campus Il primo passo che abbiamo fatto non è stato quello di progettare un sito ma abbiamo creato una landing page di una paginetta soltanto Dove ci sono le informazioni in base su chi è, di che cosa si occupa e dove ti dà subito dei contenuti di valore per poter apprezzare la sua competenza Abbiamo speso zero, l'abbiamo fatti da soli, il giorno 3 era già in onda Nel frattempo abbiamo cominciato a creare dei contenuti di valore per un futuro sito e abbiamo iniziato da subito a battere forte sui social media Vai sulla pagina Facebook, imparare a suonare la batteria e guarda quali sono i risultati, le statistiche di crescita, di coinvolgimento dei fan su questa pagina Quindi siamo andati subito a coltivare i fan e a creare un interesse intorno a quello che facciamo Nel frattempo non siamo andati a progettare un sito web come si fa in maniera classica Ma siamo andati direttamente su medium.com che è del tutto gratuito E a medium.com slash suonarelabatteria abbiamo realizzato di nascosto perché ancora non lo sa nessuno Il sito futuro di suonare la batteria che sposterà il suo dominio da quella piccola landing page a quello che puoi già vedere adesso È un sito professionale vero e proprio sul quale non ho dovuto spendere mesi, soldi, frustrazioni, rotture di coglioni Per fare tutto ciò che normalmente si richiede per fare un sito web Ma mi sono concentrato esclusivamente sul preparare gli ottimi contenuti di valore Dei quali le persone possono usufruire immediatamente e approfondire le loro conoscenze nel settore dove voglio diventare il punto di riferimento Quindi priorità numero uno non è fare il blog Priorità numero uno è coltivare un seguito di fan Ciao